L'audizione del minore dotato di discernimento nelle procedure giudiziarie, aventi ad oggetto il suo affidamento, è obbligatoria, salvo che la stessa possa essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali. I minori, pur non potendo considerarsi parte del procedimento, sono portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori, in sede di affidamento o di disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario, e per tale profilo qualificati parti in senso sostanziale. Costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa, nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori che sono in gioco nell'avvertenza e avrebbero reso necessarie la loro audizione.